impara l'italiano con omnom wow guarda che bello scenario è così innevato e guarda le montagne slittiamo sulla neve oh è omnom! è omnom! e anche omnelli! non preoccuparti omnom so che è lunga ma andrà tutto bene omnelli è qui per aiutarti dobbiamo fidarci dei nostri amici andiamo! siiii! non preoccuparvi omnom! su di qua! potete aiutarvi e divertirvi! e giù dalla pista lunga! su e giù! e attraverso la pila di neve! wow! oh un pupazzo di neve! oh no! sono omnom e omnelli! vedi omnom è così divertente! e non vi siete fatti male! vuoi farlo ancora? magari dopo! ciao a presto! ciao a presto!